Quarta edizione di La Provincia delle Meraviglie, alla scoperta dei tesori nascosti con tre mostre inedite al Vittoriano. Oltre cento le fotografie che insieme a mappe, filmati e documenti contribuiscono a costituire un affascinante racconto per immagini che ci conduce alla scoperta della storia del nostro territorio. Tra itinerari sacri, personaggi come l'incisore Bartolomeo Pinelli, ricostruzioni di battaglie e atti di resistenza durante l'ultimo conflitto mondiale. Un percorso culturale per valorizzare le ricchezze del territorio attraverso la scoperta di luoghi e atmosfere, come sottolinea il presidente Nicola Zingaretti. La parola scoperta è più usata nella quotidianità per parlare di luoghi lontani, invece il filo conduttore di queste quattro edizioni è dimostrare che si può scoprire vicino a Roma molto, anzi moltissimo.